Se arriva con la propria auto e senza nemmeno scendere, si fa il tampone dal finestrino per poi ripartire immediatamente. Anche a Prato da oggi è attivo al Centro Sociosanitario Giovannini il drive-thru dell'Asl Toscana Centro per richieste di tamponi per diagnosi di Covid-19. È possibile richiedere il tampone a pagamento per motivi personali? Questa categoria di utenti deve prenotarsi al CUP telefonando al numero 055 54 54 54. Il costo della prestazione è di 86 euro. L'altra categoria invece di cittadini che accederà a questo servizio sono i cittadini e gli utenti che devono fare il secondo e il terzo tampone per definire la guarigione. I pazienti che devono fare una preospedalizzazione, quindi prima di entrare in ospedale devono fare un tampone. Poi tutti i pazienti che hanno un sierologico positivo e devono fare il tampone per poter fare eventualmente la diagnosi. Tutti questi pazienti possono accedere tramite la richiesta che viene fatta dal medico di medicina generale e che viene inviata al nostro servizio tramite la direzione sanitaria. A quel punto noi chiamiamo il cittadino per dare l'appuntamento. Il requisito necessario per accedere al drive-thru è l'assenza di sintomi. Rimangono comunque attive le auto covid che fanno il tampone a domicilio per i pazienti più fragili o che non sono asintomatici. Da marzo ad oggi, solo a Prato, sono stati effettuati 1.700 tamponi domiciliari, più altri 967 nelle RSA. Il servizio funzionerà da lunedì al sabato, compreso dalle 8 alle 11. Sarà effettuato un tampone ogni 10 minuti e per la prima giornata sono già fissati 23 test. Le raccomandazioni per i cittadini che accedono al drive-thru sono di non arrivare molto prima dell'appuntamento per evitare che si creino delle code, qui lungo il percorso che abbiamo definito, di portare sempre con sé un documento di identità e per i cittadini che fanno il tampone a pagamento anche la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Il referto poi può essere ritirato dopo 48 ore ai punti prelievo dove ci sono anche i ritiri referti, per esempio qui al Giovannini dove c'è il centro prelievi.